Indietro! Non ho l'ordine di ucciderti, ma lo farò, se mi ostac... Aspetti! Il colonnello mi ha lasciato un messaggio per lei. Brock, sono sicuro che sei tu. Che sei tu? Dopo 40 anni sono stanco di continuare questo gioco. Anni di segreti e bugie, vissuti con il rischio costante di essere scoperto. Lo so che mi capirai, Brock! Io so che mi capirai. Devo eseguire gli ordini, lui capirebbe. La prego, la prego, lasci che abbia la sua pace. E' quello che voglio. Ma che... ma che diavolo gli hai fatto? Solamente quello che mi ha chiesto lui. Quest'uomo era come un padre per me. Allora consideri questa donna come una madre. No! Suo padre! Sua madre! Suo padre! Sua madre! E' suo padre! E' sua madre! Né donne né bambini! Ci vediamo, vecchio mio! Quante me ne ha date! Tutto a posto allora? Ok, tanto per essere sicuro.